Il bastione del Poggio del Sole è un luogo conosciuto da tutti gli aretini. Qui anticamente sorgeva la necropoli etrusca e i primi complessi francescani, mentre negli anni 30 del 900 è stata scelta ufficialmente come sede del palazzo della prefettura. Sono molte le segnalazioni di cittadini e residenti riguardo il degrado dell'area verde che sovrasta il baluardo accanto al palazzo del governo, un luogo di bivacco notturno di molti senza tetto. Abbiamo così raccolto la testimonianza del consigliere comunale Alessandro Caneschi, il quale più volte dai banchi dell'opposizione ha chiesto un intervento alla giunta Ghinelli. Sì, è proprio vero. Questo è uno dei tanti luoghi della città nei quali il degrado è evidente. Questa amministrazione, il sindaco Ghinelli, ce lo ricordiamo tutti con i cartonati in campagna elettorale nelle precedenti elezioni amministrative, che inneggiava la lotta al degrado. Oggi siamo ancora in questa situazione, in questo punto che è un punto strategico, davanti alla tra la prefettura e la stazione di Arezzo, quindi un luogo centralissimo che ad oggi è in queste situazioni. Benissimo il fatto che la regione abbia fatto dei bandi per la riqualificazione di questi luoghi, bene che questa volta l'amministrazione comunale abbia presentato il proprio progetto, bene che sia stato finanziato, ma nel frattempo cosa si fa? Non è che si può lasciare questo luogo con questo degrado in mezzo alla città in attesa che partino i lavori. Quindi penso che l'amministrazione comunale, e qui non voglio fare una colpa ai poveri senza tetto che cercano Giacilio da qualche parte per dormire, ma l'amministrazione comunale si deve fare carico di queste persone che sono in queste condizioni, che occupano questi luoghi come occupano la Lebole, come occupano la caserma, il luogo di Via Filzi. L'amministrazione deve prendere atto che ci sono queste situazioni e deve porre rimedio.